Cari fratelli e sorelle, la liturgia della Santa Messa di domenica 9 maggio ci libera in modo chiarissimo il disegno di Dio, unire tutta l'umanità nel suo amore. Per Dio non esistono confini, siano essi geografici, raziali o culturali, che vengono superati e resi obsoleti dal vento impetuoso del suo spirito. C'è una forza di trasformazione misteriosa nell'universo che non solo lo ha creato, ma che nell'umanità unita a Cristo lo sta portando alla perfezione, nel regno di Dio. È l'amore. Questa è la missione alla quale Gesù risorto chiama tutti. Ricevere e accendere ovunque nel globo terrestre l'amore di Dio. Cari fratelli e sorelle, tutto per adesso. Ciao e Dio vi benedica sempre.